Un pallone, no? E' un'altra cosa! Il 2-0, sovrapposizione di Dello Russo, pallone buono per Munoz, l'aggancio di Munoz in area, Munoz, la respinta, Apriliano, la palla passa, grande parata di Spagnuolo, la lunicredit, prova a ripartire il contropiede, il Monte Rotondo, lo scatto di Albanesi, se ne va verso la porta, Albanesi, Albanesi, Albanesi prova il tocco sotto, palla fuori, contropiede però dell'unicredit perché aveva sbagliato il numero 16, il disimpegno, Severino, il cross dentro, per il tap-in, il gol della bandiera di Barbato. A giocare questo pallone di Ventura, che si allarga se si neanche troppi problemi, palla dentro per De Marco, che calcia addosso a Mazzotta, è un regalo questo per Santarelli, Santarelli, dribble il portiere, e Santarelli fa 3-1, il cross di Severino Spagnuolo, si butta la palla in porta e quindi accorcia l'unicredit con Severino, 1-2, riaccende la partita del Fonte Park, attenzione alla palla rubata da Samà, contropiede Monte Rotondo, Samà, prova a superare Mazzotta, la palla che sfiora il palo di un soffio, e finisce qui, Monte Rotondo, batte unicredit, 3-2.